Ben ritrovati, siamo tornati anche oggi pomeriggio sul 264 su Cusano Italia TV, il canale televisivo dell'Università Nicolò Cusano, siamo nel grande Cusano Group, abbiamo anche una radio, un quotidiano Tag 24 e nel palinsesto di Cusano Italia TV abbiamo il salotto del pomeriggio, si fa per dire tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 chi c'è oggi nel nostro salotto e di cosa parleremo, ma c'è un ospite talmente importante che sentiamo la scheda che cosa dice. Nata a Chioggia, a due passi da Venezia, emigrata e maturata negli States dove ha sposato il sosia di Arnold Schwarzenegger ed è diventata mamma di due bellissimi figli, David e Tyler. Ama cucinare e avere la casa piena di gente, adora la musica, specialmente il rap e l'heavy metal, molto coinvolta nella comunità italo-americana e attiva nel sociale. Consulente di vendita di un marchio importante, frequenta gente superficiale a cui ha voluto aggiungere conoscenze più impegnate e impegnative grazie al corso di yoga. Torna in Italia e cambia subito pelle, amicizie e lavoro. Oggi è un personaggio televisivo conosciuto e amato, a si fa per dire Patrizia Neier. E l'ospite di oggi è un personaggio televisivo che conoscete già nel nostro salotto Patti, la nostra famosa Patti con i consigli, i numerevoli consigli di economia domestica. Benvenuta su Cusano Italia TV. Grazie, e che bel salotto, che salotto. Hai visto che bello, ben fatto, è vero, un ottimo salotto dove chiacchierare un pochino insieme. Conoscerti meglio Patti, Patti o Patrizia? Allora, io sono stata battezzata, nata in Italia, Patrizia, ma i miei genitori mi volevano chiamare Patti. E tantissimi anni fa i preti non accettavano questi nomi così esotici e stranieri, per cui è stato Patrizia, ma i miei mi hanno sempre chiamato Patti e poi trasferita in America e ho vissuto dove ho vissuto per trent'anni. Naturalmente Patrizia era un nome troppo difficile da pronunciare, veramente lo mispronunce, come si dice in italiano, lo mispronounce, lo pronunciavano male. Ok. E per cui era Patricia, Patrizia, allora, lasciamo perdere, sono Patti che poi tra l'altro gli americani dicono Patti, non dicono Patti, però scrivevo Patti e loro si relazionavano con me. Quindi il nome non voluto dai preti, poi ho avuto la meglio praticamente. Sì, sì, sì. Nier, Nier, Patrizia Nier. Allora, sei un po' italiana, un po' americana, aiutaci a capire, sei una viaggiatrice, certamente una viaggiatrice. Questo è proprio vero, sono proprio una viaggiatrice, anzi io ti dico che sono nata in Sicilia, non sono nata a Chioggia, sono nata in Sicilia da papà siciliano e da mamma veneta, mio papà era un insegnante, poi trasferita a Chioggia piccolissima, tipo nove mesi, e ho vissuto a Chioggia fino alla bella età di 18 anni, 19 anni, dove ho frequentato le scuole superiori, un anno di università qui in Italia, al Cafoscare di Venezia. Volevo diventare professoressa di italiano e adesso non riesco nemmeno a parlare bene più l'italiano, perché, però vi ragioni, trasferendomi così giovane poi negli Stati Uniti e parlando solo ed esclusivamente l'inglese e frequentando, finendo le scuole lì, poi naturalmente è diventato difficile per me riprendere l'italiano. Dieci anni fa sono ritornata in Italia per ragioni di famiglia, essendo figlia unica e la mia mamma purtroppo non stava bene, per cui sono venuta a soccorrere la mia mamma, poi la mia mamma non c'era più e sono rimasta con il papà. Il papà è super anziano, anche lui ha passato a miglior vita, diciamo, e sono rimasta qui dove ho questo privilegio di lavorare in televisione, che mi piace tantissimo. Eh beh, lavoro in televisione con ottimi risultati, la tua rubrica è una rubrica fortunatissima in un momento storico in cui compriamo tutto, consumiamo tutto, la tua rubrica ci riporta un po' indietro nel tempo, Patti, ai rimedi della nonna, ai consigli che la nonna ci dava un tempo e che noi abbiamo dimenticato, insomma. Però prima di arrivare alla tua fortunata rubrica e comunque a tutti i tuoi consigli, che adesso scopriremo insieme, ne sono tanti, chissà quanti oggetti prodotti noi abbiamo in casa che potremmo utilizzare e che non conosciamo bene, quindi sei una risorsa in questo. Abbiamo detto che sei un po' italiana e un po' americana. Io infatti sono italo-americano, doppia cittadinanza, i miei figli vivono ancora lì, ho ancora anche la residenza lì in California, dove sono cresciuta sia professionalmente che anche come persona adulta, considerando che una diciannovenne dei miei tempi, che viveva ancora a casa con mamma e papà e andava a scuola e non faceva nulla a casa. Io questo proprio lo voglio stressare, dato che questa è una televisione dell'università. Io non sapevo fare niente. Io quando mi sposai, io chiamai la mia mamma la mattina, come si fa a letto? Cioè, come si fa? Davvero! Per cui ho avuto la fortuna di avere un marito militare, molto paziente, una persona che comunque sapeva far tutto e mi ha insegnato a fare queste cose. Per cui io posso dire, Annalisa, che devo al mio ex marito chi sono oggi, chi sono diventata. E' stato un uomo che ti ha aiutata tantissimo, insomma. Sì, veramente, perché non sapevo cucinare, non sapevo fare un letto, non ho mai stirato una camicia. Ero figlia unica. La mia mamma mi diceva, il tuo compito è quello di andare a scuola, vai fuori dalla casa, vai a scuola, fai le tue lezioni, vai fuori con i tuoi amici e non toccare niente. Perché mia mamma comunque era una casalinga da altri tempi. Per cui lei lo faceva bene, lei solo il letto, eccetera, eccetera. Per cui, io dico c'è speranza. Tu marito ti ha aiutata, sei stata fortunata. Molto, 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 perché ho avuto una persona paziente che quando gli facevo la pasta troppo cotta oppure con tanto sale, perché non sapevo le ratio, non sapevo le dosi. Sì, grazie. Non è che si arrabbiava e scappava da sua mamma, no? Come magari un marito italiano avrebbe fatto dei miei tempi di 30 anni, 35 anni fa. E invece lui con pazienza mi ha preso per mano e mi ha insegnato. Che caro, che caro. E poi in America, lì, pensa, io sono andata in America nei primi anni Ottanta, a metà degli anni Ottanta, non c'era internet, non c'erano i telefonini, non c'era nulla, c'era il telefono ancora fisso e c'era solo la televisione. Io accendevo la televisione, ne capivo poco dell'inglese, però mi ero affezionata a questa donna, questa icona, per me è diventata l'icona Martha Stewart, che sapeva fare tutto. Era una donna di mezza età, molto graziosa, molto elegante, ma sapeva tagliare anche, con la motosega si tagliava la legna per il caminetto, oppure sapeva decorare un tavolo, imbandire un tavolo in una maniera perfetta. E quindi è stata la tua fortuna questa. La tua donna, la tua musa? Sì, lei è stata la mia musa. E allora, dato che io non sapevo far niente, se non poco, un po' alla volta, mi ricordo che i primi Natali mi facevo comprare questi bei libri da Coffee Table, come si chiama, di Martha Stewart, illustrati con tutti questi trucchi, con tutti questi rimedi, e lì mi sono diventata, mi sono ispirata. Sei diventata brava. Sono diventata brava. Sei diventata un'altra donna, addirittura. Un'altra donna che adesso insegna, ma pensa un po'. Per questo ti dico, c'è speranza, c'è speranza. Per tutti. Ma infatti, guarda, Annelisa, io quando... Basta volerlo, Patti. Sì, basta volerlo. Devi avere anche un po' la passione. Io non sapevo che avevo la passione. A me piace anche cucinare. Non lo sapevo, perché per me era una cosa che non avevo mai fatto, non ero mai stata esposta, non ero mai stata indirizzata, se non che quando ho avuto la necessità, quando l'acqua tocca il sedere, come si suol dire, impari a nuotare. E quello che ti volevo dire, in questa trasmissione adesso, io parlo non solo alla demografica che accoglie i fatti vostri, su Rai 2, per cui le persone che sono a casa, impensionate, le persone anziane, eccetera, ma cerco anche di parlare sempre con i ragazzi giovani, quelli che sono a casa, quelli che magari stanno studiando, vanno all'università, si trovano da soli a condividere un appartamento con qualcuno e cerco sempre di dare qualche trucco novello, diciamo, ok? Qualche trucco furbo. Ecco, sì, qualche consiglio che comunque può tornare utile nella vita di tutti i giorni. Basti pensare che col dentifricio in casa si possono fare grandi cose, e quanti lo sanno? Poi con l'aceto, l'aceto è stato molto utilizzato dalle nostre nonne, ma anche vedo lo scotch, le forbici, insomma. Sì, sono tutte cose veramente di bricolage che abbiamo a casa e io uso sempre, molto spesso, le cose veramente che uno non deve uscire e andare a comprare, che già abbiamo. Poi l'aceto, il mio alleato, infatti mi prendono anche in giro, in trasmissione, l'aceto, l'aceto. Ma d'altronde, sai, si deve ritornare un po' ai vecchi tempi, quando le cose erano più semplici, più genuine, più sane. Eh sì. Perché adesso abbiamo una consapevolezza diversa. Sì. Oggi siamo tutti tecnologici. Eh sì. E allora è impossibile pensare, cioè non ti viene in mente che magari con l'aceto puoi disinfettare i panni, che ne so, oppure lavare i pavimenti in un certo modo. Certo, pulire le posate. Io oggi ho pulito le posate indiretta. Sì, sai le posate che magari le metti lì a scolare, nella porta posate, e non le asciughi, oppure nella lavastoviglie, ma non c'è l'impostazione d'asciugatura, le tiri fuori e sono tutte macchiate, e comunque è tutto calcare. Basta prendere una pezzetta con un po' di aceto, passarla, tra l'altro l'aceto è anche un bel disinfettante, eh sì. Per cui ha proprietà anche... È un disinfettante che non è passato di moda. No, per niente. E non è l'unico prodotto utile, ce ne sono tantissimi, il limone, il bicarbonato, la voglia. Sono tutti utili, e i segreti sono tantissimi, e di tanto in tanto ne scopriamo, anzi ne riscopriamo di nuovi. Qual è il prodotto più utilizzato, tra quelli che noi abbiamo in cucina, e anche tra quelli che abbiamo menzionato, citato, Patrizia? Allora, il baking soda, per cui il bicarbonato di... Bicarbonato. Che io non riesco mai a dire in italiano, dico bicarbonato di soda. Di sodio. Di sodio. E mi prendono in giro pure lì, dicono che dico bicarbonato di sedia, invece non è vero. Bicarbonato di sodio. È uno degli ingredienti che uso di più, è lo stesso in compagnia dell'aceto, ma uso anche molto il detersivo per i piatti, perché è stranamente forte, è aggressivo, diciamo, nel senso che ha questa strength, questa forza di sgrassare, e in combinazione con quegli altri due elementi, tipo l'aceto e il bicarbonato, diventa un ottimo... Come si dice? Scusami le parole italiane. Un ottimo disinfettante. No, no, ma rimuove quelle macchie ostinate. Il grasso. Sì, ad esempio io mangio ancora le cose americane, tipo il bacon, con l'avocado, con le uova, e naturalmente ti rimane tutta quella colatura di grasso, del bacon, della pancetta, e se non lavi subito, si solidifica, se si brucia un pochino, ti rimane quel grasso o quella macchia ostinata, per cui... Ti aiuta tantissimo. Ti aiuta tantissimo. È molto molto utile. Per esempio io non riesco a togliere le macchie di inchiostro. Spesso torno a casa con le maglie. Io adoro questo. Ho un pantalone con una macchia... Poi mi spiegherai come si fa. Te lo dico subito. Ci sono due metodi. Il primo è quello che io amo di più, specialmente se la macchia di inchiostro, specialmente per persone come te, la penna, che ti sporchi, o anche magari sporchi una sedia. La prima cosa da fare è prendere la lacca. La lacca per capelli, perché la lacca contiene alcol. L'alcol, se tu fai una macchia anche su una camicia, una t-shirt bianca, con la birra, blu, nera, e ci spruzzi subito la lacca, tu vedrai come già l'inchiostro si va a dissolvere. Poi naturalmente bisogna andare subito al lavaggio. Oppure, la stessa cosa avviene con il latte. Metti la macchia, la parte macchiata, la maglietta macchiata, nel latte. Di solito prendi magari la parte dove sei macchiata, prendi una ciotolina con il latte, e lasci che si ammorbidisca. Perché comunque il latte è un grasso, no? Anzi, non un latte scremato, ma il latte più intero possibile. Eh sì. Per cui, o si muove con l'alcol, tramite la lacca, o tramite il grasso del latte. Ma in questo modo, Patrizia, noi dimentichiamo i detersivi. Sì? Cioè, i detersivi che abbiamo sempre appassato, poi ce ne sono tantissimi. Sì, allora, io non sono qui a fare la caccia alle streghe, non usate i detersivi, per carità, perché non è giusto, anche comunque... E' anticontemporaneo? Sì, io faccio i detersivi, e predico anche, facciamoci i detersivi fai da te, però va bene, va bene anche comprare i detersivi, ma se possiamo avere l'opportunità di farlo, anche insieme ai nostri figli, io quando vado in America, io ho una nipotina di 9 anni, che si chiama Jade, e un altro nipotino, che si chiama Carson, che ha 4 anni, e lì abbiamo fatto i pod, per la dishwasher, per la lavastoviglie, li abbiamo fatti insieme, con gli stampini di silicone, con gli ingredienti giusti, li abbiamo messi in frigo, poi il giorno dopo, li abbiamo messi in una bella, un bel contenitore di vetro, e così li abbiamo riposti in cucina, e per i bambini, è un gioco, queste cose, queste cose sono un gioco, però è anche a livello educazionale, gli stiamo indirizzando verso il fai da te, e diventano piccoli chimici, senza nemmeno rendersene conto, perché poi se la mamma e il papà spiegano, guarda sto usando questo, il bicarbonato di sodio, oppure il, adesso non mi ricordo, l'ingrediente, il nome italiano, però se usiamo questi insieme, succede questo, e questo fattore ti va a detergere, mentre l'altro ti va ad ammorbidire, si spiegano queste cose ai bambini, invece di fare il pongo, fai pure il pongo, ma fai anche queste cose qui, fai anche i cookie, io credo che il... Però dipende molto dalle mamme, dagli adulti intorno ai bambini, magari non ci sono adulti che possono aiutare i bambini, ma ci sono i nonni, ci sono i nonni, io adoro i nonni, sono nonna di quattro nipoti, sono frescamente diventata nonna, ieri, di un'altra bambina, per cui, io dico sempre ai nonni, sì, è bello portarli fuori a ingiostra, comprargli dolcetti, questo e quell'altro, ma facciamo anche qualcosa insieme con questi bambini, con questi nipotini, alla fine della fiera, quando crescono questi bambini, come siamo cresciuti noi, non si ricorderanno la mancetta, non si ricorderanno i giri in giostra la domenica, al centro commerciale, ma si ricorderanno le cose fatte insieme, ma si ricordano che facevamo magari i biscotti con la nonna, e con il nonno facevamo un progetto, facevamo qualcos'altro, questi sono veramente i valori che stanno riaffiorando, Annalisa, e io sono molto molto felice di questo, anche perché mi dà l'opportunità di poter condividere questo con il pubblico a casa, e spero sempre di essere di ispirazione. In America siamo un po' più avanti con questo, io ho due nuore che lavorano, una infermiere e una maestra, per cui lavorano a tempo pieno, hanno tutte e due adesso due bambini, eppure si prendono il tempo, il tempo di fare questa date, per cui ritagliare un'ora, sia con un figlio, sia con l'altro, e poi un'altra ora con i bambini insieme, per cui fare cose speciali, secondo me questa è una cosa molto aiutativa. Ma invece in America con l'economia domestica, quindi con i tuoi rimedi, a che punto siete? Siete più avanti o più indietro? Insomma funziona un po' di Siusa, un po' di più? No, no, loro sono più avanti di me, allora io ti dico la verità, tante cose le ho imparate per esperienza, anche il mio passato professionale, io ho lavorato come un event planner, catering director, per una catena di hotel famosi, americani, internazionali, e per cui lì ho imparato tantissime cose, a parte Martha Stewart, adesso però mi devo evolvere, per cui io devo stare ai tempi, io costantemente studio i social, non so se si possono menzionare i social, per cui Instagram invece che TikTok, io sono una IG Instagram. Sei un'influencer! No, no, semmai io ho l'influenza, altro che... No, no, non mi definisco un influencer, ma anzi io prendo spunto dai reels americani, giapponesi, e anche quelli italiani, che sono già al mio livello. Ecco, però in America funziona di più, i rimedi che abbiamo imparato, che impariamo attraverso te, funzionano di più, se comunque il tuo modello è stata una donna americana, è lì che hai imparato. Ma com'è strana l'America? L'America è un paese comunque molto moderno, molto avanti, molto più tecnologico del nostro, ma nonostante tutto, su certe cose, è più conservatore. Assolutamente, intanto l'America è un paese conservatore, è un paese molto più conservatore del nostro qui in Italia, e comunque gli americani, agli americani piace il fatto di ritornare alle origini, dato che la storia per loro non esiste, se ci pensiamo bene, la storia 1492, Cristoforo Colombo, prima di quello che c'erano... Per questo ti ho detto che è un paese molto moderno, e nonostante la modernità, loro utilizzano vecchi metodi, assolutamente, nella vita di tutti i giorni. Però lo fanno con un spin-off moderno, per esempio, i Reels che io visiono, e che io comunque ammiro, e aspiro, anche poi a condividere qui in Italia, sono tutti di organizzazione, e ti faccio un esempio. Per esempio, io andai in America, quest'estate, per un mese a casa delle mie due nuore, una in California, e una a Washington State. Apro i loro stipetti della cucina, e dico, madonna, di solito arrivano le suocere, e fanno così, io non posso permettermi di fare così, perché loro sono più amanti di me, malgrado lavorino a tempo pieno, hanno casa, grande, figli, sport, fanno un sacco di cose. Sono brave, brave mogli. madonna, sono proprio bravissime. E niente, io apro questi stipetti, e vedo queste, tutte queste contenitori, con queste etichette, tutte perfette, tutte con questa font, con questo carattere, con questa scrittura, calligrafia perfetta, e tutto in ordine. Io dico, ma davvero? E il frigo, apro il frigo, tutti questi tapping work, tutto messo, loro fanno il meal prep, per esempio, che io naturalmente questo non lo posso fare in trasmissione, perché non c'entra nulla, ma io sono rimasta sbalordita, da non solo loro, ma tutti i loro amici, che vanno a lavorare, fanno questo meal prep, niente altro, sarebbe che una preparazione anticipata, del cibo che andrei a mangiare in settimana. Ah, ecco. Così da risparmiare, numero uno, poi a stare attenti all'apporto calorico, perché se tu già sai che vai a mangiare oggi il salmone con l'insalata, domani il petto di pollo con, invece domani, che ne so, il farro con le verdurine, hai già... Cucini solo una volta e sei a posto tutta la settimana? Cucino non la due volte alla settimana, la domenica sera, mentre fanno la cena, fanno questo bellissimo spread, con tutti questi bel tapping work, sia lui che lei, mio figlio Tyler e mia nuora Allison, e si mettono lì, se fanno questo, che ne so, loro piacciono molto, noi abbiamo tanti salmoni a Sacramento, che ti scorrono, per cui sono buonissimi, per cui il trancio di salmone con i broccoli, invece che le patate con il pollo, e si preparano tutto questo. Poi il mercoledì o il giovedì, ripetono la sera, mettono sulla musica, si fanno una birra, un drink, insomma è un altro stile, è un altro stile, è un altro modo di vivere, sono tutti in forma, analisa, tutti vanno al lavoro, e non corrono sotto in pizzeria, a mangiarsi il trancio di pizza, o di focaccia, o di mangiare l'hamburger, con il bacon, che ti cola il grasso, perché sanno che quello è il loro, hanno metodo, loro hanno metodo, quindi domenica sera e mercoledì sera, si cucina per i giorni successivi, comodo, si effettivamente. E si riportano al lavoro, poi loro hanno le loro borse frigo, si mettono dentro queste cose, la loro frutta, yogurt, pensa che addirittura fanno questo overnight oat, che sarebbe nient'altro che questa avena, questi fiocchi di avena, che abbiamo anche qui in Italia, preparati la sera prima, o due o tre sere prima, con i semi di chia, scusate chia, con i blueberry, con le noci, invece che altre cose. Quindi sono molto bravi e molto attenti, in questo hanno molto metodo, nel preparare il cibo, e poi sono anche molto bravi, con i metodi che riguardano, insomma l'economia domestica, che ci portano a utilizzare prodotti, che noi abbiamo in casa, e che sono utilissimi per lavare, l'abbigliamento abbiamo detto, oppure per pulire, per lavare meglio le pentole, non lo so, insomma ci sono tantissimi rimedi, che ci racconterai, la pandemia ci ha portati, ad avere un atteggiamento diverso, verso il fai da te, e quindi utilizzare quello che abbiamo. Ma infatti, e infatti un altro trend che c'è, a parte il riciclo, che significa, faccio diventare, che ne so, una bottiglia di vetro, la riciclo, e faccio diventare altre bottiglie di vetro, altre, che ne so, un piano di vetro, ma c'è l'up cycle, che sarebbe, up cycle significa, do nuova vita, ad esempio di una bottiglietta di plastica, dell'acqua, e invece di buttarla, di riciclarla, per farla diventare altre cose di plastica, la uso, o do una vita alternativa, un aspetto magari migliore, per cui up cycle, in questo ciclo superiore, per cui questa bottiglietta, la posso far diventare, un bellissimo porta pennelli da make up, invece che porta penne, basta tagliarla, prendere un ferro, non a vapore, caldo, e fare un po' di branding, per cui sigillare velocemente la plastica, che si chiude, e magari mettere qualche fiocchetto, e metterla in camera dei nostri bambini, come porta penna, cioè sono piccole cose, ma c'è anche dei regali, ma certo, ma certo, e anche il regalo nel regalo, regali fatti col cuore, fatti a mano, fatti da te, ma anche utilizzare della stoffa, per confezionare un regalo, per cui avremo un doppio regalo, sai, io ho tanti tovaglioli, ma belli, grandi, della dote, ma chi li ho mai usati, di lino, devi stare a stirare, a lavare, tutte queste cose qui, in amidire, come si dice in amidire starch, in amidire, no no, quando diventa amidare, in amidare, in amidare, scusami il mio italiano brutto, ma sono cose che non si usano più, e cosa si fa con tutti quei tovaglioli, si mettono insieme, si mettono insieme, si fa una grande tovaglia, ho fatto una tovaglietta, e dentro questa tovaglietta, magari vado a metterci una bella bottiglia di vino, ci metto un bel fiocco, lo tiro tutto su, e vado a fare un regalo, a una persona che mi invita a cena, e che avrà, non solo una bella bottiglia di vino, di champagne, o di prosecco, ma avrà anche questa bella tovaglietta, che meraviglia, fatta con il cuore, ma insomma è arte, stiamo parlando d'arte, ma un riciclo, un riciclo, un dare nuova vita, a cose che sono dimenticate, dentro i nostri cassetti, e infatti qui in Italia, noi siamo pieni di cose delle nonne, delle doti, in America, non c'è questa usanza della dote, uno la si sposa, e va a Walmart, e si compra quello necessario, sì, è necessario un po' alla volta, e qui io sono cresciuta, io avevo la dote, avevo sto baule enorme, per cui tante persone della mia generazione, e più vecchie, si relazionano, tante cose fatte magari dalle zie, e dalle nonne, perché vanno conservate, usate, ecco, anche un invito, ragazzi giovani, usiamo queste tovaglie, non abbiamo paura, usiamole, usiamole anche per una pizzata, cosa importa, ecco, abbelliamo la nostra casa, anche se viviamo in un piccolo appartamento, facciamoci prestare, possiamo renderla più bella, e infatti ci aiuta, ci aiuterà ancora, tra poco scopriremo, alcuni rimedi di economia domestica, qui sul 264 si fa per dire, vi aspetto.